Adesso un momento ancora più emozionante, se ci può essere un momento più emozionante. Il cantante che vi sto per presentare è uno dei più venerati al mondo. La trattativa per l'averlo è durata tre mesi, alla fine pensavamo che non sarebbe nemmeno arrivato. E invece oggi, due ore fa, lui ci ha fatto una sorpresa. E' afferrato con il suo jet personale a Milano Linate. E con una grandissima emozione, davvero. Signori, vi presento... Ray Charles! La trattativa per l'averlo è durata. Non ti come back no more Non ti come back no more Non ti come back no more Non more Non ti come back no more You my fellow right? I can't hear you one more Yes, I'm afraid I'm a fellow right Yes, the road, the check I don't come back no more Non, son of a while Ah, okay And let us sing a song, okay? I don't know I don't speak English, eh? Yes, the road, the check I don't come back no more No more Yes, the road, the check I don't come back no more Yes, the road, the check I don't come back no more 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 Bella questa canzone Bella Stop, stop Sento cosa dico No, lo stavo parlando con te Con con un Un'operaiola Bella questa canzone che cantavi, right? Well, the check It's rough, Jack That's rough, Jack That's rough, Jack He's rough, Jack He's rough, Jack He's rough, Jack He's rough, Jack He don't come back no more No more No more It's rough, Jack Come back no more This And a floor? Yeah No, scusate, scusate, non puoi parlare altra lingua, perché non ho capito, non ho capito. Sì, bravo. Ok, tu puoi parlare rispetto alle cose che dici. Ok, ok, io voglio dire, io voglio dire, io voglio dire, tu, 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 canti, italiano, in inglese, italiano, tu, tu, ah! Ok, ok, tu puoi parlare, tu puoi parlare in italiano. Aspetta che non ho capito cosa, perché stai parlando in una lingua, cosa ha detto, c'è la traduttrice simultanea? Ci sono, ci sono. E cosa ha detto lui? Tu canti in italiano. Ah, ok, non avevo capito. Sì, ok, ok. Sì, ok, ok. I speak Italian. Do you understand? Do you understand? I said I speak Italian. Ecco, quando parla così capisco. Quando parla italiano no. Ok. Ok. Come here, come here. Come here, come here. I wanna say that. Qua, qua, qua. Qua. Ginocchio? Sì, ginocchio. Ok, ah, to the very... You want, you, to my... What's your name? Adriano. Oh. Adriano! Adriano, ok? Ok. Ah! 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 Vuoi cantare? Vuoi cominciare? Tu ricordi quella canzone che faceva? Oh! Come fa? Come fa? Ah! Oh! 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 Oh, oh! Oh! Ti ha, oh! Oh, sai va! Oh,ся va! Yes, Talking... Diie... Hierratto... Un altro ginocchio! un'altra sinopsi ok, so, a sinopsi si, si ok andiamo a cantare di ah, cosa hai detto? andiamo a cantare ah, allora questa è una lingua che non capisco cosa ho detto? dov'è? andiamo a cantare andiamo a cantare I understand si, si, ok eh, tu porti me eeehh 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 ooooh eee eeeh 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 ooooh eeeh 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 Cosa è successo? Lo dico io? Eh sì, lo dici tu E' bravissimo, Ray Charles, bravo No, questo No, questo Allora, tell mama Tell papa Come and know me to the hula, Lord. Come and know me to the hula. Ehi. Ehi, ahi. Ehi, ahi. Ehi, ahi. Ehi, ahi. Ehi, ahi. Ma che finale hai fatto? Il director ha fatto un finale disgraziato, ha fatto. Sei stupido, sei stupido. Sei stupido. Che finale hai fatto? No, cioè, io ho provato a fare una cosa, hai capito, hai capito? Che finale hai fatto? No, al finale così, al finale così, un po' così. No, non era infiati, non c'era. No, no, no giusto. No, giusto. Aspetta, aspetta, te lo metto a posto io. Vai. È forte questa, eh? È forte. Questa era fuori programma. Certo, ok, sì. Ok, sì, vai. Ok. Come what I see? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.